Il lancio di Rivera L'apertura di Rivera per Benetti Ancora Rivera, al volo in area, scatta Riva Rivera Rivera Serve Pulici Abbiamo avuto un inizio molto fiacco La partita adesso si sta vivacizzando Anche il ritmo Rivera Un primo colpo di testa di Clodoat Capello ha toccato a Rivera Rivera Pulici Libera molto bene In mischia tra due avversari Serve Rivera Ancora Mazzola Ha colpito di testa Luis Pereira Mazzola ancora sulla destra Rivera Scambio Mazzola-Rivera Prontissimo il trosse Rivelino in posizione Rivera Di cross E stegna Riva Azione Benetti Rivera Al volo verso Riva Per la squadra azzurra Il punto dei corner è due per parte Al ventunesimo minuto del primo tempo Rivera Lancio di Rivelino Rasoterra Fermato da Capello Che ribatte subito su Rivera Benetti ha portato fuori la palla E serve Rivera Che aggancia Con molta eleganza Centrocampo E lancia Riva Fermato con Bellissima l'intesa Rivera Finge il cross Si porta alla destra Eccolo il cross Ha controllato Zoff Rivera Era rimasto in possesso del pallone Batte Mazzola Rivera Aveva abbandonato la guardia di Edu Sottolineiamo ancora il felice gioco di Sabadini Ancora Benetti Rivera Riva In difficoltà i nostri Rivera Pulici in fuorigioco Rivera lancia Sabadini Benetti per Capello Rivera Benetti Rivera Cross di Rivera Sette minuti del secondo tempo Con gli azzurri sempre in vantaggio per 1-0 Il passaggio indietro di Rivera Marchetti Impedisce La fuga di Giair Signo Ancora Rivera Il lancio per Pulici Mette in calcio d'angolo Primo tiro dalla bandierina della ripresa Per gli azzurri è il quinto Rivera Cross di Rivera Lunghissimo per Cross di Mazzola Colpo di testa di Rivera Intendeva servire Benetti Capello Rivera Rivelino Rivelino Ancora Rivelino Si è portato la palla Fino sulla sinistra Rivera Clodoaldo Marchetti Fa giungere la palla Ancora Rivera Mazzola Mazzola Rivera Bel contropiede Dei nostri Mazzola Di Zemaria E' combattuto Alla punizione Per Chinaglia Antice Ferma Benetti Tocco indietro Di Rivera Ancora per Benetti Rivera Il lancio Non riesce a tirare Mette fuori aria Bellugi Prima di Dario Rivera Luis Pereira Ha saltato Ha recuperato Un bel pallone Pulici Luis Pereira Scatta Gli toglie la palla Rivera Rivera Pulici Intervenuto Marchetti Gli ha impedito Il tiro Spostandolo lateralmente In area di rigore Lancio per Chinaglia Da parte di Rivera Chinaglia Sulla destra Allontana Marchetti Rivera Raccoglie poco fuori aria Lancio per Chinaglia Chinaglia E' partito Oltre la metà campo Chinaglia Tiro Alto Sulla traversa Ferma Rivera Ferma Rivera In piena area Apre su un mazzo La parte opposta Rivera Rivera Ancora Chinaglia Sabatini Rivera Chinaglia Rivera Bello lo stacco Lo stacco di Luis Pereira Su questo colpo di tacco Rivera Ed è finita la partita La partita si conclude Con il 2 a 0 In favore Della squadra Italiana Non è stata una vittoria Squillante